Che colpaccio ragazzi, che colpaccio di Fran Mihoilevic, 19enne croato del cycling team Friuli, il cui padre è uno dei direttori sportivi della Bahrain. Victorious si va a prendere la tappa numero 3 e quindi anche la penultima del giro di Sicilia e la maglia di leader della classifica generale. Quindi giornata da incorniciare per questo ragazzo del 2002, ripeto, 19 anni, che resiste al rientro del gruppo sulla fuga, della quale lui faceva parte da inizio giornata praticamente, e in solitaria si va a prendere la tappa numero 3 con 41 secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Quindi Caruso perde la maglia, attualmente è a 18 secondi da Mihoilevic, poi abbiamo Nibali a 22 e abbiamo, tra gli altri, Pozzo Vivo a 24, ovviamente. Domani tappa Regina e vedremo cosa accadrà, certamente perderà la maglia Mihoilevic.